Dottor Vari, i contratti di lavoro dell'edilizia appena rinnovati introducono un'importante novità riguardante la previdenza complementare. Ci può spiegare questa innovazione ed indicare i motivi che hanno spinto le parti sociali firmatari dei contratti ad introdurla nel settore edile? Certamente. La novità contrattuale consiste nel fatto che abbiamo pattuito nel corso dell'ultimo rinnovo contrattuale per l'edilizia di riconoscere per ogni lavoratore dipendente in edilizia, dipendente da imprese che applicano il contratto del lance industria, stiamo parlando dell'edilizia industria, e di quelli che applicano sotto un altro versante il contratto per gli artigiani, quindi abbiamo fatto anche la stessa operazione nel rinnovo del contratto con le associazioni artigiane, che cosa? Di versare per ognuno di questi lavoratori un contributo di 8 euro mensili, riparametrati, riparametrati significa 8 euro al livello più basso che è pari a 100 nella scala parametrale, quindi si raddoppia al 200 che è il massimo della scala parametrale, e con questi 8 euro riparametrati mensili costituire per ogni lavoratore una posizione previdenziale nel fondo prevedi. Questa è un'operazione importante per tutta una serie di fattori, riproverò a dirne alcuni che mi sembrano quelli più importanti. C'è il problema della previdenza, la previdenza pubblica non garantisce più, già oggi non è più in grado di garantire quanto è necessario per una vita dignitosa una volta usciti dal circuito produttivo, una volta andato in pensione, come si usa dire. Allora c'è bisogno che il lavoratore si costruisca un'altra situazione, quella che nel linguaggio tecnico viene chiamata la seconda gamba pensionistica. Parliamo della pensione riferita ai fondi contrattuali, fondi chiusi, chiusi significa stabiliti e contrattati tra le parti rappresentative dei vari settori. In edilizia c'è appunto il fondo prevedi. Che succede però? Succede che soprattutto in tempi di crisi, mi permetto di ricordare, stiamo vivendo una crisi soprattutto nell'edilizia da diversi anni, stanno praticamente fiaccando queste possibilità, perché i lavoratori hanno bisogno, come dire, di vivere anche oggi e sono, ahimè, ai noi, ai tutti, purtroppo poco propensi a pensare al loro futuro e quindi alla loro pensione. Detto questo, noi ci dobbiamo allora preoccupare di mettere in atto dei meccanismi che da una parte incoraggino questi risparmi previdenziali e mettano nelle condizioni i lavoratori edili, in questo caso appunto, di crearsi una seconda pensione, chiamiamola così. La legge c'è, la legge c'è, funziona, però i lavoratori devono essere incoraggiati, devono essere incoraggiati, devono essere addirittura, direi, aiutati a capire che esistono queste possibilità. E siccome sono possibilità che per legge le imprese, sono obbligate a rispettare quando il lavoratore decide di iscriversi ad un fondo pensione, noi con questa adesione contrattuale che, ripeto, riguarderà indistintamente tutti i lavoratori edili, vogliamo incoraggiare questo percorso. 8 euro di per sé sono ancora una cifra esigua, non sono ancora niente, ma noi speriamo che da questa adesione contrattuale possano scaturire convincimenti da parte appunto dei lavoratori interessati che valga la pena iscriversi ordinariamente, normalmente, al fondo. La legge di stabilità presentata dal governo prevede la possibilità da giugno 2015 per i lavoratori dipendenti, tranne quelli del pubblico impiego e del settore agricolo, di percepire mensilmente in busta paga il trattamento di fine rapporto. Cosa ne pensa? Quali sono i vantaggi per i lavoratori che invece sceglieranno di versare il TFR ai fondi pensione? Cominciamo dall'inizio della sua domanda. Che cosa ne penso rispetto all'ipotesi del TFR in busta paga? Prima di tutto bisognerà vedere come esce la normativa, il testo definitivo della normativa. Però detto così, piuttosto a caldo, io non so quanti lavoratori faranno questa scelta. Ma coloro che la faranno, che situazione creeranno di fatto? Creeranno una situazione dove saranno invogliati o costretti anche dalle circostanze della vita a spendere quei soldi, non so in che misura aumentando i consumi, come vorrebbero gli economisti del momento, ma in ogni caso mettendo da parte il problema del domani. Il TFR, mi permetto di dire soprattutto in edilizia, è stato vissuto fino a oggi come una sorta di salvadanaio del lavoratore tra un periodo di lavoro e un altro. Mi permetto di ricordare che il lavoratore edile mediamente non lavora tutta la vita in una stessa azienda e soprattutto in uno stesso cantiere, ma fa una vita piuttosto alternata tra lavoro di cantiere, periodi di non lavoro, più o meno brevi a seconda dei casi e nuovo lavoro in un nuovo cantiere. Ora, il TFR, soprattutto in edilizia, viene usato normalmente dal lavoratore edile proprio come ammortizzatore nei periodi di non lavoro. Depotenziando però ulteriormente il TFR come grussolo economico finale, cioè da utilizzare a fine carriera o come in edilizia nei periodi di non lavoro, che cosa si crea? Praticamente il TFR, non essendo più utilizzato in questo modo, ma speso mese per mese, perché con la busta paga diventerebbe parte della mensilità e quindi vanificherebbe nella sostanza altri obiettivi come quello che ricordavo prima dell'incremento dei consumi. Se un lavoratore invece decide di portare il suo TFR in un fondo pensione e quindi decide di iscriversi ad un fondo pensione, parlo di tutti i fondi pensione contrattuali, dei fondi chiusi, ma parliamo di prevedi. Quello che si crea è un'altra situazione, perché al suo risparmio che è costituito dal TFR va aggiunto quanto l'impresa per legge deve versare per sostenere questa iscrizione, che è la quota pari a quanto spende il lavoratore. L'1% lo mette il lavoratore e l'1% lo mette l'azienda, oltre gli 8 Euro dei quali discutevamo prima riferiti alla novità contrattuale, ma quell'1% aziendale, l'1% del lavoratore produce una rendita che tra l'altro mi permetto di dire in questi ultimi anni sono state buone rendite, quelle maturate dal fondo prevedi, come dagli altri fondi, peraltro, come dagli altri fondi contrattuali, aggiungo, e quindi è un risparmio di tipo diverso. A fine carriera lavorativa questo lavoratore avrà un sostegno al suo reddito che si sommerà alla sua situazione pensionistica, e quindi lo aiuterà a vivere un po' meglio di quanto vivrebbe solamente con la pensione IMS, con la pensione pubblica, per capirci. La differenza sta tutta qua e non mi sembra che sia poco.